La prima moto che mi sono costruito io sono partito da una base distrutta, un Yamaha XJ 900 dell'85 Ho spaccato la leva della frizione nonostante mi fosse rimasto un pezzo così corto sono riuscito a fare una serie di fascette a legarla e a tornare a casa Avevo delle camere d'aria normali Quando ho fatto il primo tentativo di riparazione ma ho causato un piccolo incendio sui carburatori Nel montarla l'ho strappata e quindi sono rimasta a piedi Mi si è rotto il filo dell'acceleratore in mezzo al bosco Ho spaccato in due la ruota anteriore Ed era quasi buio E ho piegato le forcelle Ed ero da solo Qui siamo tutti d'accordo Me l'hai messa in la vita lì? Grazie a tutti